Tanto che gli storici hanno discusso, ma a quell'epoca era possibile essere atei, dico teoricamente, poi sì, tecnicamente era possibile, perché lo dice anche la Bibbia. Lo stolto dice in cuor suo Dio non c'è e loro lo sapevano, certo ci sono perfino persone che non credono in Dio, pensate quanto si può essere idioti. Casi concreti? Pochissimi. Fra Salimbene da Parma racconta nella sua cronaca di aver conosciuto un vescovo ateo. Quando è morto e quando era moribondo ed è arrivato un sacerdote con i sacramenti, il vescovo ha detto lasciate perdere, tanto io non ci credo mica, e dice il frate e gli hanno chiesto ma allora perché hai fatto il vescovo? E dice per le ricchezze e per gli onori. Però sono casi limite, li racconto per farvi ridere per l'appunto, ma sono casi limite, sono tutti credenti in realtà.